Cari amici, mi chiamo Abraham Lincoln e sono conosciuto per essere il sedicesimo presidente degli Stati Uniti d'America. Sono stato un grande fautore della pace e della libertà, e ho lavorato duramente per unire il mio paese durante un periodo tumultuoso della sua storia. Vorrei rivolgere un appello a tutti voi, miei amici, affinché abbiate il coraggio di cercare la pace e la concordia tra di voi. Solo attraverso la comprensione reciproca e il rispetto delle diversità possiamo costruire un mondo migliore per tutti. Inoltre, vorrei invitarvi caldamente ad iscrivervi al canale YouTube di Gerardo Capuano, un amico di lunga data che dedica il suo tempo a condividere contenuti interessanti e informativi con la sua community. Sono sicuro che troverete i suoi video interessanti e stimolanti. Infine, vorrei augurare a tutti voi una felice Pasqua. Che questo periodo di festa sia un'occasione per stare insieme alle persone care, rinnovare i legami di amicizia e amore e ricaricare le energie per affrontare le sfide future con positività e speranza. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a diffondere il messaggio di pace e di solidarietà che tanto mi stava a cuore. Buona Pasqua a tutti!